Oggi il Giro d'Italia Under 23 ha portato una ventata di allegria nel Sondriese, in bassa Valtellina e in Val Chiavenna. La quarta tappa è partita alle 13.40 da Chiuro, dalla piazza del Municipio, una frazione che fin dalle prime battute si è rivelata molto combattuta. Il gruppo si è diviso subito in tre tronconi davanti a un gruppetto di sette fuggitivi. Lasciata a Chiuro, la corsa ha affrontato un circuito di circa 25 chilometri ed è risalita nuovamente verso la sede di partenza, con rampe non durissime ma dalla pendenza costante. Il Giro Under 23 ha poi raggiunto il Fondovalle, toccando numerosi centri della Valtellina. Qui vediamo il passaggio dei ciclisti nella città di Sondrio, lungo Via Stelvio e in Via Vanoni. Fra Morbegno e Dubino il gruppo ha lasciato la Valtellina per entrare in Val Chiavenna. A Chiavenna, dopo una ventina di chilometri in lieve falso piano, il traguardo ad imporsi il canadese Rilay Pickerla.